A 15 anni ho preso il mio abito religioso e gli voglio tanto bene a questo abito religioso. Se 40-50 anni di storia sono stati distorti, avviliti, non si è detta la verità, la fede ha la parola data, questi erano ideali del Vangelo, non erano gli ideali di Mussolini, diventarono, grazie a lui, gli ideali di un popolo. Poi vengono gli anni 30, che popera, fratelli miei! Ve lo ricordate, quelli che possono ricordarselo, ma bisognerebbe stamparlo nella mente e nel cuore dei vostri figlioli. In dieci anni abbiamo vinto due guerre! Bastò l'Italia col suo popolo, con le sue camicie nere, e non passò il comunismo in Europa, che sarebbe diventata l'Europa quella che era già diventata la Jugoslavia, con Tito e col Coninfo, sapete che cosa significava questa parola? Significava l'unione di tutti gli stati comunisti, bello! Bello quando in Etiopia sorgono le strade, la più bella capitale di Africa, sapete qual è? Asmara! Sapete chi l'ha fatta? Mussolini! E' nata la città di Littoria, adesso si chiama Latina, perché per carità, se dite Littoria, si offendono quelli che non hanno fatto un cavo nella vita dei nostri uomini. E' gloria a Tura Kruk. E' nata la città di Littoria, adesso si chiama Latina, sapete 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 chiama Lat